Ciao a tutti ragazzi, buon martedì e benvenuti a Videogame News, la rubrica di EveryEye.it che vi permette di essere sempre aggiornati con tutte le notizie dal mondo dei videogiochi. Cominciamo questa puntata parlando di Bioware. Rispettando quanto annunciato in precedenza, la sussidiaria di Electronic Arts ha tenuto durante il Comic Con che si è appena concluso a San Diego un panel tutto dedicato al nuovo Mass Effect che ancora non ha un titolo, dovrebbe essere comunque Mass Effect 4 e poi portare un sottotitolo che si colleghi alla storia che verrà narrata. Proprio riguardo a quest'ultima sappiamo adesso che si svolgerà durante la vita del comandante Shepard ma quest'ultimo non sarà direttamente coinvolto negli eventi come del resto era già stato suggerito in precedenza. Per quanto riguarda invece alcuni aspetti più precisamente del gameplay si è parlato del ritorno del mako, ossia il veicolo che permetteva l'esplorazione spaziale nel primo gioco, forte di un design completamente nuovo che è stato mostrato in alcuni artwork e si è parlato anche del multiplayer che questa volta dovrebbe concentrarsi soprattutto sulla componente cooperativa e non su quella competitiva. Ma le notizie dal Comic Con di San Diego non finiscono qui. Infatti Kevin Brunner, il presidente di Telltale Games era presente alla convention ed ha annunciato l'arrivo di una terza stagione di The Walking Dead, ossia l'avventura grafica che ormai tutti conosciamo molto bene e il cui ultimo episodio è uscito recentemente proprio in questi giorni e che abbiamo anche recensito sulle nostre pagine. Ancora non ci sono dettagli relativamente ai personaggi o a eventuali novità sul gameplay. Dal canto nostro riteniamo che inizieremo a scoprire qualcosa solo dopo che la seconda stagione si sarà conclusa e ricordiamo che l'ultimo episodio uscirà proprio nel corso di questa estate. E passiamo adesso a Destiny. Nelle ultime ore sono infatti trapelati in rete alcuni dettagli probabilmente estrapolati dalla beta del gioco che potrebbero suggerire l'effettivo quantitativo di contenuti ludici presenti al lancio. I fan si sono lamentati particolarmente della presenza di soltanto una modalità libera esplorazione per ogni pianeta presente nella versione finale del titolo. Bungie dal canto suo ha voluto diciamo rassicurare tutti quanti dicendo che si tratta del suo gioco più longevo in assoluto e che diverse attività che saranno poi disponibili nella versione finale del gioco ancora non sono state annunciate e conseguentemente non erano presenti nella beta. Sicuramente tra l'altro grande sarà anche il supporto post lancio speriamo gratuito che dovrebbe concentrarsi anche sulla componente PVE e non soltanto su quella PVP. Quindi è il caso sicuramente di attendere il lancio del gioco e poi i mesi immediatamente successivi prima di tirare conclusioni in questo senso. E rimanendo sempre in tema Bungie sembra proprio che la casa sia al lavoro su un nuovo progetto. Lo prendiamo dal profilo LinkedIn di Mark Nosworthy che sembra appunto essere stato appuntato come produttore esecutivo di un'IP ancora non annunciata. Non possiamo sapere nulla naturalmente di più preciso neanche se si tratti di qualcosa di legato a Destiny o magari proprio una produzione completamente nuova. Rimaniamo in attesa di sviluppi. E passiamo adesso a Microsoft che ha svelato i dettagli dell'offerta Games with Gold relativa ad agosto. Chiunque possega una Xbox One potrà scaricare Crimson Dragon e Strike Sud Zero mentre invece gli utenti Xbox 360 potranno godere di Motocross Madness e di Dishonored il capolavoro degli Arkane Studios. Si tratta sicuramente di quattro titoli che confermano come l'offerta stia migliorando di mese in mese. Ricordiamo che gli utenti Xbox 360 potranno continuare a giocare i giochi scaricati anche una volta scaduto l'abbonamento Gold mentre invece questo non vale purtroppo per gli utenti Xbox One. E torniamo brevemente a San Diego e al Comic Con. Neil Druckmann di Naughty Dog ha infatti rilasciato alcune interessanti dichiarazioni relative a Uncharted 4. Sembra proprio che il prossimo numero di Game Informer gli dedicherà non solo la copertina ma anche uno speciale ricchissimo di dettagli. Non ci sono ancora informazioni più precise se non che lo sviluppo procede senza alcun intoppo. Vi ricordiamo inoltre che un nuovo video del gioco che sarà in uscita l'anno prossimo in esclusiva PlayStation 4 potrebbe essere mostrato durante l'imminente Gamescom. Quindi rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti. Come sicuramente ricorderete, Media Molecule qualche giorno fa ha pubblicato un misterioso teaser trailer che dovrebbe ricollegarsi ad un nuovo progetto in questo momento in sviluppo. Il sito PlayStationin.com l'ha analizzato frame per frame e ha trovato un'inquadratura particolarmente interessante che sembrerebbe rimandare all'utilizzo di realtà aumentata e quindi conseguentemente della PlayStation Camera. Naturalmente non sappiamo ancora niente di più preciso al riguardo e speriamo che qualche novità in tal senso possa arrivare dalla Gamescom 2014 ormai davvero imminente. E passiamo adesso, come sempre, alle nostre personalissime top e flop news. Il top di questa settimana va a Square Enix che ha recentemente annunciato di aver distribuito un milione di copie del suo RPG Bravely Default distribuito in esclusiva per Nintendo 3DS di cui 400.000 per il Giappone e 600.000 divise tra Europa e Nord America. Si tratta sicuramente di un bellissimo successo per il gioco e fa sperare in una localizzazione tempestiva per il seguito, ossia Bravely Second. Il flop di questa settimana va invece a Sony. È stato infatti scoperto un bug nel sistema operativo di PlayStation 4 che sembrerebbe compromettere l'installazione di giochi scaricati tramite Digital Delivery sia dal PlayStation Store sia tramite le app di Netflix per quanto riguarda contenuti video ed Amazon Prime. Ancora non è esattamente chiaro quando e come questo bug si verifichi, quel che è certo è che impedisce l'accesso al contenuto appena scaricato e anche con un ripristino totale della macchina non si riesce a risolvere il problema. Sony ha naturalmente dichiarato di essere al corrente di questo malfunzionamento e di essere al lavoro per fixarlo al più presto. Speriamo che la cosa avvenga in tempi rapidi. E con questo anche per l'edizione di oggi era tutto. Noi vi diamo appuntamento come sempre al prossimo venerdì. Ciao! Ciao!